Un tuffo dove l'acqua è più blu e lo slogan che circa 4 milioni di viaggiatori della 14, della 24 e da 25 leggeranno per i prossimi 40 giorni sui 44 pannelli disposti lungo la rete viaria a scorrimento veloce. L'iniziativa vede il comune di Fossacesia capofila degli altri che nel 2018 hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della bandiera blu. Fossacesia per l'appunto, poi Tortoreto, Giuliano Varoseto, Silvi, Vasto, San Salvo e Scanno con il suo lago a forma di cuore. Regione Abruzzo e Comuni si attendono un ritorno turistico positivo nel 2019. È un'industria, in un momento recessivo per l'altra industria, il turismo che ovviamente non si delocalizza, deve solo attrarre i turisti, attrarre con le qualità ambientali, paesaggistiche di servizi per poter dare occupazione e produrre ricchezza. È una promozione sulla rete autostradale che catturerà, spero, d'attenzione di 4 milioni che soprattutto nel periodo estivo transitano lungo la dorsale adriatica e da Pescara a Roma. Le bandiere blu quindi diventano un veicolo di promozione turistica a sistema. Superate le polemiche sui criteri di assegnazione, il riconoscimento assegnato dalla FE, istituito nel 1987, diventa un potenziale attrattore di turisti, soprattutto nei comuni che hanno rispettato i parametri. Mare pulito e acque eccellenti in primis, ma anche servizi, infrastrutture e sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche in spiaggia. Ma è proprio lì la capacità anche degli amministratori e della regione, quella di far fare sistema a località che hanno fatto scelto della sostenibilità e hanno fatto una scelta di campo. Oggi il mercato del turismo richiede sostenibilità, quindi una scelta anche comunicativa in questo senso non può che essere vincente.